SCATMAN'S WORLD Bello ragazzi, sono tutti ragazzi, siamo su Motorsport Manager Allora Fioi, è iniziatta una nuova votazione della Global Motorsport Association Stavolta il tema è gomme a basso profilo Ok Allora praticamente Questi pneumatici a basso profilo sembrano fantastici ma non sono i più veloci Lato positivo sono più economici Ma quanti ne ho di voti? Però ecco qua sinceramente due voti li do perché onestamente Cioè comunque Voglio pneumatici veloci, mettiamo tre voti Ok, vai Viva la democrazia, amici piani alti E beh qua chiaramente la mia influenza politica secondo me mi può dare un vantaggio Infatti stiamo Stiamo stravincendo Fioi Comunque per il prossimo anno ho potuto avere un budget alto Perché voglio arrivare bene in classifica costruttori Quindi proposta rifiutata Perfetto Benissimo Ok Molto bene qua stiamo sviluppando la monoposta Stiamo sviluppando il motor Lo stiamo migliorando E Stiamo anche migliorando Qua le prestazioni del cambio Per portarla al massimo Invece l'altro è perfetto E volevo migliorare anche la fizzabilità qua Però è bene che la nostra Polly Barker Come si diceva, deve concentrarsi solo su questo intanto Qua possiamo ancora aspettare insomma Ok, prossima gara Guilford è una specie di Silverstone Usura carburante Molto alto Basso legume Qua siamo a posto 93%, va bene 80% Questo non lo usiamo Per migliorare questo Un giorno dopo la gara Cazzo E va bene E va bene Poi 100 e 100 Pezzo universale Questo però Beh dai Non è così pericoloso Ultime parole famose Va bene Però possiamo Vabbè Vabbè almeno si concentra di più su questo Va bene Le prestazioni magari Ok Miglioriamo le prestazioni di questo E ok Un componentino ne abbiamo Perfetto, andiamo avanti Posta Uh, allora La Vananen Ed è da un po' che non sto benissimo per essere bisogno di una pausa per ricaricare la batteria Di solito vado in un centro benessere nei dintorni Ma vorrei scegliere il pacchetto mille per avere la certezza di riprendere Mi farebbe piacere Che sboccio però Mamma mia Vabbè Io li spendo perché i miei piloti di essere felici Però porca puttana Il dilemma è risolto Ok Però adesso Vabbè Vabbè Ho fatto la scelta giusta Dai va bene così Ok Allora Motore terminato Monoposto Allora Monta componenti Allora il nuovo motore ha un 140 Però ragazzi a livello di affidabilità è una merda Allora migliora componenti Eh non so se posso metterlo adesso È questo È una bestia perché è una bestia In realtà però È più forte questo per adesso Solo che potenzialmente può arrivare più alto Ok vabbè 240 giorni dopo la gara ammazza Puttana troia Allora Vai Facciamo così intanto Però cazzo eh Qua è perché avevamo ancora i cosi scarsi Dovamo migliorare anche questi Non c'è niente da fare Vabbè Vabbè Comunque il motore l'abbiamo migliorato Andiamo per progettare un nuovo componente Quindi per esempio il motore Vediamo Allora Affidabilità Eh Velocità massima E zona rossa Mi dà l'epicus Ah vedi circuito di prova e vedi però non me lo da Quanto costo? 1 milione e 7 Eh però Io quasi quasi la rischio Solo che che sboccio se vado male ragazzi Per tutti i soli 2.8 1.7 Proviamola Vaffanculo Pochi soli ragazzi Però Tra un po' ci sarà una macchina devastante Speriamo bene ragazzi Ok ragazzi I suoi giorni sono diventati 34 e 55 Perché erano tutti verso la prestazione Adesso vabbò Io Sono convinto di aver fatto la scelta giusta Nel migliorare ancora il motore E' chiaro che devo sviluppare anche il quartiere generale Che è il punto debole di questa scuderia Che E che costa tanto ragazzi Lo posso fare il prossimo anno Però il prossimo anno Teoricamente se sono ancora in questa scuderia Se mi vogliono ancora possiamo vincere il mondiale Ma anche quest'anno Allora ragazzi Come può fare l'impresa Le buranti Partiamo tutti due con le super morbide E così a cannone Prevista pioggia Però chiaramente con questo tracciato Parto con le intermedie Oddio Ma come scusa Mi sembra umido Cazzo Cioè non mi sembra umido Come va? Tutti hanno le intermedie però ragazzi Vabbè Non sono convinto Però a sto punto Se mi dice così Andiamo così Ma non sono per niente convinto di questa cosa Però Fidiamoci del Tentare una nuova Ci proviamo la prima volta Se sbagliamo Dalla prossima Faccio come dico io Io non avrei messo le Vediamo se ma ricambia qualcosa Aspetta però Ok abbiamo Mamma mi sono tutti due indietro Chiaramente Perché Quattordicesimo E sedicesimo Bene Tutti con le intermedie Vai ragazzi 23 giri di passione Dai raga Partiamo a bomba Eh beh Comunque Comunque Dai A Silverstone ci può stare Quindicesimi Sedicesimi Cerchiamo di partire forte nei primi giri Per poi abbassare Soprattutto il carburante Dai 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 Antonov Dai Antonov Spinge come un porco Antonov la banana in difficoltà Bisogna fare punti qua anche per i soldini eh Bravissimo Antonov Quattordicesimo Antonov risale la chine La chine in maniera devastante Primo giro andiamo anche piano con la velocità Perché devo capire Eh piove comunque eh Eh sì forse è giusto così Ok cominciamo Media alta E media alta Vediamo Non siamo messi Guarda già come crollano Sono tutti al massimo Cazzo Sono tutti al massimo Allora dobbiamo attaccare anche noi Mamma mia come siamo messi male Ultimi e penultimi Mentre col bagnato non giriamo Dai Antonov Cristo di un dio Mamma mia Stiamo prendendo un scoppolone Stiamo prendendo per il momento Dai Antonov Corri come un porco Lavananen è ultimissima Lavananen 20 giri alla fine E' sbagliato E' sbagliato E' sbagliato E' sbagliato l'intermedia Ragazzi Altrimenti sono cazzi Mamma mia Sulla pioggia siamo disastrosi eh Noi proviamo ad abbassare un po' Però siamo veramente messi male eh Mamma mia siamo messi male Quindicesimi e sedicesimi Condizioni pietose proprio Schianto Dine e Santana Da solo bandiere gialle Peccato La Santana e i box Purtroppo solo un incidente Ma non safety cancer E' stata utilissima Tutti e tutti i pit stop Sono tutti i pit E adesso diamo gli ultimi Vai diamo Gli ultimi colpi Trecchi 38% E 41 Carburante 3 giri Siamo primi e quinti Dai Antonov Adesso devi spingere come un porco Anthony Devi spingere come un porco Antonino mio Come siamo messi qua Attenzione 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 A sto punto con la Vananen Posso rischiare Mancano 16 laps Aspetta un attimo Sta arrivando il sole con la Vananen Rieschio le morbide Opzioni carburante Al massimo E bilanciata E adesso vediamo Anthony rimane al comando Tutti hanno messo l'intermedia Intermedia anche per lui Carburante a cannone Bilanciata E vai Brava Vananen Con le super soft Perfetto Brava Adesso vediamo la Vananen cosa combina Cambiato la strategia La Vananen decima Attenzione No, 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 no Barburante scarso Porca puttana Dai Antonov Dai Anthony Dai Anthony Ecco Errore ai pit Dio Cristo Errore ai pit Siamo quinti però Bravo Anthony Bravo Antonov Dai Ok Antonov rimane quinto La Vanana in sesta Dai siamo in ripresa Siamo in ripresa Antonov secondo Molto bene Terzo alla Vananen Bravi Per la strategia è andata bene Dovevamo solamente stare calmi Allora Abbiamo fatto una sosta in meno praticamente Bravissimo Kume Bravo Kume Brava squadra Bravi tutti Eh lo so che consuma le stelle Bravo Buono Anthony Bravo Anthony Dai ragazzi Stiamo girando bene adesso Santana è schianto Se mi è piaciuto vederlo Cazzo Bravo Anthony La Vanana in Andiamo controlliamo un po' la piccola Vanana Eh stanno risparmiando le gomme queste merdacce Ora risparmiamo Risparmiamo con la Vanana Mentre con Antonov Andiamo così 8 secondi da marchetta però Antonov me le deve tenere Lo so che si consumano vecchio Ma che possiamo fare La Vanana è in lotta probabilmente Eh la Vanana è qua Sta arrivando il gruppo 8 Sta arrivando Dai Vanana Regalami un sogno piccola Vanana Adesso con la Vanana devo spingere Perché siamo a fine delle gomme per la Vanana Vai Antonov Antonov sta girando molto bene adesso Problema meccanico per Dumboli è Vediamo se lo vediamo No non è già È già i box il porco Qua sono i doppiaggi Carburante 3.8 Dai le gomme ci sono per Antonov ancora Perfetto Ritorna a piovere signori Mamma mia che gara a Silverstone Dai bandiere blu Marchetta va con le intermedie Boh Non lo so Non lo so sinceramente Pit stop per la Vanana Mancano 8 giri Opzioni carburante Ok Strategia bilanciata Ok Strategia bilanciata E mettiamo Al massimo E alta Ok Noi la rischiamo Io non mi riesco di metterla intermedia sinceramente Vai Mamma mia Forse la stiamo rischiando Eh sono quasi tutti con le intermedie Fioi Non so cosa fare ragazzi Calma Con Antonov devo andare su sicuro Mancano 6 giri Ok mettiamo sicurezza 8 Vediamo la Vanana con le super soft se pompa Dai Antonino Bravo Antonino Veloci adesso ragazzi Veloci Buono Siamo ancora primi Eh la Vanana è in difficoltà La Vanana è in difficoltà Ritiro per sabato Ritiro per sabato Eccolo qua Antonov in testa Molto bene Eh la Vanana è in sesta Non ce la fa però la Vanana non ce la fa Non so cosa fa eh vabbè Però chiaramente 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 Sarà un disastro Proviamo veloce però La Vanana è in chiuso Purtroppo mi dispiace per la Vanana e Antonov Ci sta andando alla grande Mancano 3 giri e Antonino resisti 3 ritiri Sole pioggia e pioggia sole Crisi nera per la Vanana Purtroppo Male per la classifica costruttori Però dai Antonov Regalamela vittoria Antonino Regalamela cazzo Le condizioni non sono eccezionali La Vanana è addirittura quattro dicesimo Deve ancora fare il pit Mamma mia Male male la nostra Vananina Peccato per la Vanana Colpa mia ho tentato Ho rischiato che la Vanana E mi è andata male Però Antonino ci può regalare la vittoria Dai Antonino Male la Vanana può recuperare con qualche penalizzazione Speriamo Però qua Antonino può fare una vittoria pesante Cazzo Stai buona Vanana Ultimo giro Ultimo giro per Antonov Dai Antonov che vogliamo la terza vittoria La seconda non lo so Blue flag vai Mamma mia Che sbaglio con la Vanana Che sbaglio con la Vanana La possiamo recuperare con Antonino Va Antonino mio Ed è vittoria Vittoria per Antonov Yuhuuu La Vanana è purtroppo chiude quattordicesima Ed è così Peccato potremmo finire bene con la Vanana E' andata male Per un errore mio Vediamo se recuperiamo qualche punticino magari Ok Eh gara pietosa lo so Grande Antonov Yuhuuu Buono 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 Vediamo se mi recupera qualcosa la Vanana Speriamo Ah dio mio Allora Controllo auto speriamo bene Teoricamente non ho nessun problema Ok La Vanana in tredicesima Dai guadagna 8 punticini Al posto di 7 Per il buon Antonov invece 20 punti e solo 2 soste ragazzi E' così che si vincono i mondiali Mamma mia stiamo calmi Mamma mia calmi Grandissimo Antonov Vittoria strepitosa Siamo terzi nel mondiale a meno 10 da Tanvir Già E da Jean-François Bootcamp La Vanana incrolla al nono posto Però non male Costruttori sempre quarti a meno 41 della vetta Purtroppo i punti persi della Vanana sono pesanti Però possiamo rimediare Molto molto bene Ok Antonov si è spinto oltre un po' i limiti E godo E si gode E si gode Arriva un'altra vittoria Per il Cuma Molto bene Questa non se ne do tanto anche i piloti Come bravura Arrivano soldini fondamentali Every Chapman Chi è? Hamilton Anzi con Antonov non si può vincere il mondiale Si stiamo calmi e tranquilli Allora Ma vaffanculo Vittoria della gara Hai vinto una gara Morale più 15 Perfetto Andiamo a vedere un attimo le nostre statistiche Cioè La prima è stata in 7 gare 4 podi e 3 vittorie signori Cioè Qua abbiamo Supercoppa che sbozza Abbiamo anche gente a rischio Chiaramente non vado a far domanda Il Cuma C'è molto sicuro Obiettivo raggiunto Perfetto Buono raga Nella prossima gara Vediamo se riusciamo a montare dei motori migliori Ma la squadra C'è la prossima gara a tondella Ma è un altro tracciato Con delle modifiche Un saluto del Comendone veneziano Vincitore Ciao